Ok ragazzi, quando 10 soldati russi capitanati da un comandante che apparentemente sembra ubriaco cercano di prendere la posizione difesa da un unico ucraino, che cosa potrà mai andare storto? Ora, come potete facilmente immaginare, non posso mostrarvi alcuna immagine di quella che è una vera e propria battaglia una di quelle che si concludono con una decina di corpi dilaniati e tanti arti che schizzano in ogni direzione e lo dico in senso letterale, non figurato, vi lascio quindi il link al mio canale e al video in oggetto con la precisazione che dovete guardarlo soltanto se avete realmente lo stomaco per farlo sembra una sessione tratta di peso da un first person shooter, cioè da un videogioco moderno ma in realtà è una battaglia vera, ammesso che di battaglia si possa parlare quando da una parte, ripeto hai 10 soldati russi coordinati da un ubriaco, letteralmente, e dall'altra hai un soldato normodotato ucraino il quale può contare solo ed esclusivamente sulle sue forze e su qualche drone guidato da alcuni amici ora, in pratica, se mai doveste guardare questo video, e so perfettamente che lo farete tutti dal primo all'ultimo non potete non notare in primo luogo il tono della voce del coordinatore russo in realtà del comandante russo questo comandante sembra avere la bocca impastata cioè sembra che stia guidando il suo team mentre è ubriaco e ragazzi, non è una battuta o una cosa che dico per offendere apparentemente è davvero così i consigli che dà sono sensati ma scordinati e fuori tempo non sembra un ufficiale che sta parlando con 10 dei suoi uomini che si trovano in prima linea a rischiare la vita altro dato interessante è che questo comandante sembra avere una certa field awareness cioè sembra sapere quello che sta avvenendo sul campo di battaglia motivo per cui è ragionevole ritenere che anche i russi durante questo scontro avessero la possibilità di sfruttare almeno un drone è comunque un dato di fatto, drone sì oppure no che 10 soldati russi non riescono in questo caso a prendere la posizione tenuta da un singolo soldato ucraino e non solo non riescono a prendere quella posizione ma vengono letteralmente in alcuni casi fatti a pezzi da quest'unico soldato e da un drone portatile di supporto gli errori tattici di questa sporca e sicuramente sfortunata decina non si contano il soldato ucraino da solo riesce a neutralizzarne un buon numero ed il resto del lavoro lo fa o lo fanno uno o due droni è una scena ai limiti dell'assurdo difficilissima da descrivere sembra quasi letteralmente un videogioco dove al posto degli esseri umani hai dei personaggi gestiti da un computer malprogrammato i russi restano all'interno di una trincea ce n'è forse soltanto uno che si sporge un po' e che in teoria potrebbe tenere sulla sua linea di tiro il soldato ucraino ma di fatto loro non fanno altro che restare all'interno di questa trincea e sono dei facili bersagli per le granate che lancia il soldato ucraino ripeto non si muovono non fanno assolutamente nulla sembra quasi che non riescano neanche a capire dov'è l'avversario e l'ufficiale al comando che ripeto poi magari è solo un pregiudizio mio sembra ubriaco non fornisce indicazioni utili ma si limita a proferire valangate di uscenità mediamente una parola su due che sentite è una parolaccia anzi cosa dico una parola su due sono quasi tutte parolacce e gli unici due o tre consigli seri che da sono lanciate le granate aggiratelo altro non c'è ma il punto è che comunque questi dieci soldati vengono eliminati uno dopo l'altro in parte dal soldato ucraino e in parte da uno o due droni che sono arrivati per dargli manforte anche qui i droni di cui stiamo parlando non sono esattamente l'overvetop e il non plus ultra dell'aviazione mondiale no, sono semplicemente dei droni riconvertiti per uso militare droni che probabilmente in una vita passata venivano utilizzati per scattare foto ai matrimoni quindi basta davvero poco per salvare una vita eventualmente condannando le altre dieci ma erano tutti brutti e cattivi ma soprattutto ci fa capire che anche le statistiche date dal ministero della difesa ucraino per quanto a noi possano apparire anomale sono in realtà affidabilissime ora è vero che non proprio tutti i giorni dieci russi vengono eliminati perché non riescono ad affrontare un singolo soldato ucraino ma mediamente in certe condizioni i russi perdono realmente 13 soldati contro uno perché i soldati che mandano all'assalto non sembrano essere minimamente addestrati per svolgere quel compito ripeto, se guardate quel video vedrete non uno ma dieci soldati che sembrano incapaci di muoversi sul campo di battaglia in più hanno un ufficiale che urla loro principalmente improperi e insulti le indicazioni sono ridotte all'osso e sono tutt'altro che chiare e non solo perché questo ufficiale ha la bocca impastata forse dall'alcol e a questo punto qualche iscritto potrebbe dire ma avvocato questo è l'unico caso non è possibile che siano proprio tutti 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 così e infatti è vero, è certamente vero non sono proprio tutti 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 così però un discreto numero sì gli soldati russi sono stati visti compiere di quegli errori tattici che manco i bambini alle elementari intendo dire quando alcuni soldati russi hanno provato a prendere il controllo di un palazzo che forse era anche il quartier generale ucraino o qualcosa del genere era un ufficio pubblico in una città che era oggetto di contesa questi soldati si sono ammassati come in un film della Marvel di inizio 2000 all'interno di un ascensore pensando che sarebbero potuti arrivare tranquillamente tutti quanti all'ultimo piano per poi assumerne il controllo senza problemi il punto è che questa struttura era controllata per l'appunto dai soldati ucraini quindi quando questi soldati sono entrati in 10, 12, forse 15 all'interno di un ascensore tutto quello che hanno dovuto fare i soldati ucraini per catturare questi 12 è stato semplicemente bloccare l'ascensore fra un piano e l'altro il video ricavato dalle telecamere di sicurezza dell'ascensore è divenuto un meme famosissimo e a proposito di meme anche questo selfie è divenuto storico ritrae un gruppo di VDV cioè di truppe aviotrasportate e russe pronte a sbarcare esattamente il 24, il 25 febbraio 2022 ad Ostomel cioè ad un aeroporto ad uno schioppo di distanza da Kiev soltanto che lo schioppo l'hanno fatto sugli Lushin che trasportava quei militari anche lì in teoria il comando russo aveva detto mandiamo i nostri VDV cioè le nostre truppe aviotrasportate il meglio del meglio facciamo prendere l'aeroporto di Ostomel mandiamo queste truppe oppure dei mercenari in borghese a eliminare Zelensky e qualche altro membro del governo e ci prendiamo l'Ucraina in un fine settimana al massimo ecco in realtà questi ragazzi che si sono fatti il selfie sono sopravvissuti circa due ore in Ostomel dopodiché sono stati neutralizzati male lo sappiamo perché dopo due ore circa è stata richiesta la loro evacuazione o meglio loro hanno richiesto l'evacuazione ma dato che stiamo parlando di forze militari russe figurati se sono arrivati dei mezzi per farli evacuare sono finiti tutti o sottoterra o magari qualcuno è stato arrestato e abbiamo pure visto la sua intervista credo che questi però siano finiti tutti sottoterra per cui io capisco perfettamente che ci possono essere delle perplessità quando si vede che la Russia ha perso 400.000 uomini in due anni circa di guerra è tantissimo e sì, sembra una sparata pubblicitaria slash propagandistica ucraina ma invece no, è la realtà perché sventuratamente per i soldati russi la vita di un militare soprattutto privo di gradi in Russia non vale praticamente nulla i soldati vengono addestrati poche male riescono a combinare qualcosa solo grazie al numero passando letteralmente sui corpi dei propri compagni e soltanto quando gli ucraini o letteralmente si slogano il dito indice e non sono più in condizione di premere il grilletto come purtroppo sta avvenendo in questo periodo quando esauriscono le munizioni perché questo è il modo con cui i russi sono riusciti ad avanzare ora non è per la loro tattica per la loro strategia per i mezzi superiori è perché semplicemente gli ucraini per colpa di alcuni parlamentari americani non hanno più ricevuto il munizionamento necessario per dare tante ma tante mazzate formato famiglia ai russi e sì quando gli ucraini giocano in difesa possono anche perdere la vita dieci soldati russi contro uno o magari non c'è poi neanche l'altro ucraino come in questo caso perché il soldato è sopravvissuto alla grande sono i dieci assalitori che hanno fatto tutti quanti una brutta fine e l'ultimo è letteralmente finito in pezzi poi naturalmente come ripeto sempre è caduta ad Ivka ma è soltanto una città a 2, 3, 4 chilometri dal confine che è stato segnato dai russi circa dieci anni fa i russi non sono riusciti a sottomettere l'Ucraina per ora naturalmente sarebbe opportuno che noi occidentali fornissimo un supporto costante e soprattutto qualitativamente migliore per gli ucraini perché per ora abbiamo tirato avanti cedendo i nostri fondi di magazzino ma siamo arrivati ad un punto in cui da una parte i fondi di magazzino non bastano più bisogna fare sul serio e dall'altra abbiamo una Russia che è passata realmente all'economia di guerra e che quindi presto o tardi inizierà a sfornare a getto continuo carri armati e altri mezzi da combattimento poi naturalmente l'industria russa non ha l'efficienza dell'industria occidentale però qualcosa produce noi occidentali viceversa pur avendo tecnologie e materie prime in abbondanza siamo resti a investire nel militare perché ci sembra una cosa del secolo scorso ormai demodè inutile il problema è che la storia non rispetta le nostre convinzioni e la libertà è un bene preziosissimo ma assolutamente non acquisito e neppure scontato la libertà bisogna difenderla e purtroppo per difenderla bisogna investire anche in armi e in mezzi militari per fare in modo che a nessuno passi per l'anticamera del cervello l'idea di attaccarci ma di questo parleremo la prossima volta e cioè domani e voi che cosa ne pensate i russi potranno migliorare in futuro e creare un'infinità di problemi ulteriori agli ucraini oppure sono condannati a non essere addestrati e a fare da bersagli più o meno mobili per tutto il resto della guerra come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piace il canale ricordatevi di attivare la campanella di iscrivervi al canale di condividere il link al canale sui vostri social preferiti e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso il mi piace tutto il resto è tutto gratuito quindi fatelo che come comunità non siamo mai abbastanza grandi inoltre se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente improbabile potreste trovarvi quell'ufficiale che ha mandato al massacro dieci dei suoi uomini restando tranquillamente spaparanzato su una maca come vostro coach personale io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti grazie a tutti